e con questa non mega cagato fuori dal vaso che è il mio figlio che è il mio figlio Sì non si va mangiato in attesa del tenissimo si che mica cosa guardala come la tua tutta non fa canzare dura quasi quanto condoletta te lo dico per la tua mano per canzeria è ificato dann Sì, ci stanno insieme a un piccolo pochino. Ma questi sono suoni veri? Eh no, perché non sono tassi. Spero che sono tassi. Ma anche quella flattina lì è nuova. Eh? Anche quella flattina lì è nuova. Sì, ci sono 4 tassi nuove l'arco. Così si fa una torre di torre, Luca. Di come torre di Vigiliano? Sì. Sì, sono 4 tassi nuove l'arco. Sì. Sì, è giusto con la roba della pizza. Però... stesso. La primera業ta fornata da parti alto. Sì.. Mi ha sensato con la renta insieme. Sì, anche la prima casa!!! Se presto capisce camions ghiera soprattutto... Sì! E non ho! Quanto gioca a�ú Donnella Van La C deaf? E non ho! Castillo! Bispo Cusa VISTA. E non poi? B знаете che, cosa cambia? Pe儿? B procedura... Grazie a tutti 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 Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti